cose che non ti aspetti in prossimità del natale anche quest'anno tucano urbano ci ha mandato un regalino di natale adesso apriamo il pacco e vediamo cosa c'è taglierino alla mano allarghiamo un po la vista eccoci qua mettiamo da parte buon natale su due ruote che quest'anno dopo il copercasco parte i due anni fa e lo simanicato lo scorso anno per natale tucano urbano che ha mandato guarda un po una maglia termica e qua c'è la spiegona vedete del del livello di diciamo termicità della origine biostatic ovvero una tecnologia antimicrobica a base di sali d'argento in grado di inibire la proliferazione dei batteri che provocano gli odori bla 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 poi il resto lo leggete da soli utilizzo come primo strato a contatto con la pelle sicuramente un prodotto del quale farò larghissimo uso durante le mie scorribbande giornaliere da e per l'ufficio a mezzo treno e bici e come andrà la maglia magari di uno dei video vi farò anche un breve resoconto della maglia se tu can urbano anche quest'anno per questo splendido regalo di natale è sempre un piacere sapere che comunque un'azienda con la quale si collabora per i test ti pensa in questo modo quindi grazie ancora a dora e a flavian a tutto lo staff di tucano urbano ciao